Tito? Marco non mi fido! Allora stremate da questa giornata con questa presentazione del libro No vabbè bellissimo, poi sai io sono legata a Elisabetta, è un'amica da sempre Vi ho visto affiatatissime Noi abbiamo cominciato insieme con Miss Italia, cioè lei ha partecipato credo un anno prima che io vincessi Poi da lì in realtà non ci siamo mai persi di vista, poi lei è calabrese, mio marito è calabrese Allora raccontaci un po' di te, ti sei sposata? Sì mi sono sposata e soprattutto due bimbi bellissimi Quanti anni hanno? Maschetti di otto e tre, quasi tre anni Ottimo per mia figlia piccola che ne è quasi due, quindi facciamoli incontrare Com'è essere mamma? È bellissimo, molto molto bello Io credo che non potrei mai pensare di vivere la mattina pensando di non essere mamma Sembra quasi uno stato naturale per me Per quanto all'inizio quando noi partoriamo e abbiamo questo bimbo ci sembra tutto tutto diverso In realtà in un niente ci rendiamo conto che quello è È solo quello per noi, non c'è altro E poi non sai più vedere la tua vita senza? È impossibile, io viaggio tanto per lavoro E devo dire la verità che i miei bimbi mi mancano veramente tanto, 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 tanto Anche al telefono il mio piccolo Mamma, tonni, tonni mamma Il cuore ti si Ti si dilania Sì, sì, è vero, è vero Però io dico sempre, è meglio una mamma felice e realizzata che una mamma sempre in casa e triste No, no, beh, io ripeto, ci sono tante donne che sono felicissime di stare in casa e non le biasimo Però purtroppo io faccio parte, purtroppo per fortuna di quella categoria che invece Penso sempre che la realizzazione personale sia la base ed è proprio della realizzazione psicologica Per essere anche una buona mamma Anche perché poi, ripeto, i bimbi e i bambini crescono Avranno la loro vita E io voglio avere anche una vita anche quando loro usciranno alla porta E io voglio avere anche una vita